Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi come state vedendo qui voglio parlarvi della città island Ragazzi oggi non c'è Michele perché ho un video molto breve ed è molto importante Prima cosa ragazzi, molti di voi lo avranno notato, perlomeno per i più seguaci del canale, per quelli più veterani Anche se non è molto italiano correggiuto, ho rimesso la cresta bionda ragazzi Perché questa cresta bionda? Vi ricordo come è nata la cresta blu Io invece un contest, tra virgolette, una challenge sullo Pilaki Bryson di The Legend Dicendo se arriviamo a 100 like a questo video mi farò i capelli blu per una settimana Il problema è che quella settimana ragazzi è durato tipo 5-6 mesi perché non ho avuto mai lo schez Perdonatemi il termine, di ritrovare la skin con i capelli biondi Ragazzi adesso l'ho ritrovata e siamo tornati con la nostra bellissima cresta bionda come agli inizi del canale Quindi ragazzi era più una questione di ritorno al passato come mi piace Intanto qui rumori ambiziosi di Minecraft Ragazzi come prima cosa direi di mostrarvi il vero succo dell'isola E soprattutto voglio chiedervi una cosa Quindi andiamoci nell'isola Intanto ci sono persone Ah ah non faccio vedere nulla per ora Ci sono persone che mi inviano degli scambi Quindi facciamo trade, accept, xx, diamond Vediamo un po' diamond cosa ci dà Diamond boots, diamond boots Aia, aia, aia Sì ragazzi ha perdito anni ma non ha nulla per Grazie, grazie diamond Aiaiai Ah vero, vero Ragazzi questo video vi ricordo Oh vi faccio vedere, non devo farvi vedere È molto breve anche perché come voi ben sapete io l'ho continuata sul secondo canale Ma per chi mi ha seguito nelle varie live Sapete che il secondo canale ragazzi verrà chiuso a breve Quindi la serie tornerà su questo canale Mi raccomando spolliciate come non mai Allora ragazzi Qual era il problema di oggi? Anzi facciamo salutare YouTube Perché ho visto c'è qualcuno di voi chat E magari vuole salutare Poi in realtà no E mi insultano Però vabbè ragazzi non fa niente Non saluteranno tipo mai Però io ci ho provato Vabbè ragazzi a parte le cavolate Ok ciao diamo the sword Che da quando sono entrato mi sta stalkerando Ok ragazzi allora Di cosa volevo parlarvi oggi A parte che ci sta sempre la ciocca pic extreme come shaders Quindi ragazzi vedrete tutto bello abbagliante Ma comunque ragazzi Cosa c'è di novità? Vabbè credo proprio che non siate ciecati Almeno lo spero Basta guardare qui ragazzi Basta che guardare qui intorno Che bella roba che c'è sta C'è sta la roba Guarda qua Qui c'è la cascata Qui c'è la fontana Ragazzi se non vi carica Perché magari avete voi qualche problemino Vabbè ragazzi a parte le cavolate Ovviamente da quando ho visto Michele e Dionigi Che sono i due Quinquilini dell'isola Hanno smontato Tutta l'isola Per rifarla da capo Ma poi perché è così alta? Ah ma è l'acqua qua Madonna ragazzi vi ripeto Non sono abituato con questa shaders extreme Poi fatemi sapere quale preferite Tra la chocabic ultra e quella extreme L'unica differenza è che questa extreme Si è più realistica Ma è molto più scura Quindi fatemi sapere quale volete Detto questo ragazzi La vera offerta di oggi Sapete qual è? Volevo proporre una specie di serie di video Della ricostruzione dell'isola In che modo ragazzi? Con un timelapse Che cos'è un timelapse? Ossia una velocizzazione della costruzione Praticamente Io recco durante la costruzione E velocizzo tutto dopo Diciamo così per i più ignoranti Che non è l'insulta Che raga Ignoranti che ignorano Il vero significato Di timelapse Intanto tu mi devi picchia Io non ti ho fatto un chezzo Ovviamente ragazzi Io vi avevo promesso Che arrivando a 20 like Circa nello scorso video Avremmo fatto il tour dell'isola Il problema è che a destino Come che ce lo facciamo? Quindi dobbiamo prima ricostruire tutto Fatemi sapere se volete Questi famosi timelapse Fatemi sapere cosa ne pensate Del ritorno della cresta bionta Bellissima Stupendosa Detto questo ragazzi Vi invito a lasciare un bel like Commentare il video Perché ricordo Anche qui Ritornerà il famoso commento del giorno Quindi ragazzi Il miglior commento verrà eletto E mandato Diciamo così Nello spazio Detto questo Like Commento Condividete Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E ciao a tutti ragazzi E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti